Parte con il botto la nuova biblioteca multimedia immaginaria dei ragazzi nata dalla fusione tra la biblioteca dei ragazzi, il centro immaginaria e il laboratorio città dei bambini e delle bambine. Si tratta di un vero e proprio centro educativo culturale in grado di guidare i più giovani nella loro crescita attraverso il mondo delle immagini, delle parole e dei media. Domani sera 9 settembre, primo appuntamento dalle 19 alle 22 nella sede del palazzo delle Muse per un viaggio reale e virtuale nel mondo lunare con lo storico delle missioni Apollo, dottor Paolo Minussi e con un collegamento via Skype con un astronauta della NASA. Un programma anche quello di quest'anno, quello di immaginaria della biblioteca dei ragazzi che prevede tantissimi appuntamenti importanti, il primo è quello che inizia proprio domani, il 9 settembre dove abbiamo la notte incantata della biblio ragazzi e cioè un viaggio verso la luna. Sarà qui lo storico delle missioni Apollo che è il dottor Paolo Minussi, i bambini verranno qui con i loro piccoli sacchi a pelo e potranno osservare le stelle, probabilmente ci sarà anche un collegamento con un astronauta della NASA, si potrà quindi diciamo partire per questo viaggio della luna dalle 19 alle 22, decine di bambini saranno riuniti qui. È solo il primo appuntamento di una serie straordinaria che vede in campo l'insegnamento e l'educazione nei confronti dei mass media, della diversità, dell'alimentazione, quindi tutta una serie di argomenti che verranno trattati di mese in mese dal progetto di immaginaria e che arricchiscono la didattica scolastica in modo straordinario. Per questa serata ricca di emozioni, per ragazzi da 6 a 12 anni, sarà sufficiente portarsi un panino o un sacco a pelo con coperta e la fantasia viaggerà da sola.